La storia dei 5 Stelle, il destino, l'epilogo degli stessi rappresentanti di Grillo mi sembra un po' come la famosa canzone Eravamo quattro amici al bar di Gino Paoli e questo numero di amici che progressivamente decresce fino a scomparire. E' un po' quello che sta accadendo e accadrà anche a Taranto perché vedete la pattuglia dei pentastellati già ha perso una unità, quella di Rosalba De Giorgi. Ma oggi voglio parlare di una deputata dei 5 Stelle, tale onorevole Alessandra Ermellino da Crispiano. Ma mi viene in mente una frase dei promessi sposi, Don Abbondio stava comodo sulla sua sedia, sulla sua poltrona e lesse un nome, Carneade. E si domandava, Carneade, chi è costui? Beh, più o meno penso che anche gli amici telespettatori e gli amici del web che non masticano molto la politica si domanderanno Ma chi è questa Alessandra Ermellino? Un po' come Carneade, preciso, nulla di personale nei confronti dell'Ermellino, ma è certamente da criticare aspramente la sua condotta politica. La sua presenza sul territorio, i suoi interventi sono praticamente impalpabili, non lasciano traccia per quei pochi interventi che ha fatto. Però la primavera fa miracoli. La primavera fa rinascere la natura, fa germogliare la natura, fa risvegliare gli animali dal letargo e ha anche questa proprietà di far risvegliare politicamente Alessandra Ermellino dopo un lungo periodo di silenzio e di letargo politico. Infatti in un intervento insieme agli altri due deputati di Taranto dei 5 Stelle mi riferisco appunto a Giovanni Vianello, il deputato tarantino, quello che voleva chiudere l'Ilva e che urlava Ilva chiusa e all'onorevole Cassese, il quale urlava anche lui Ilva chiusa, lui amante dell'agricoltura, però poi all'atto pratico sostengono le scelte scelerate di Conte che fa sì che l'Ilva possa produrre anche in tempo di coronavirus. Ma vediamo cosa ha scritto l'Ermellino insieme ai due deputati Vianello e Cassese dopo questo lungo periodo di letargo si rivolge al governo e dice il nuovo decreto che sta per realizzare Conte, il cosiddetto decreto rilancio non abbandoni lo stanziamento di fondi per l'area tarantina per quanto riguarda le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Ve lo reggo. Il DL rilancio in via di emanazione in queste ore al vaglio del MEF per le necessarie verifiche prevede anche importanti misure per Taranto che riguardano le infrastrutture e la mobilità sostenibile. È di fondamentale importanza per noi e per i nostri cittadini che tali misure afferenti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non vengano rimosse. Questo territorio, già fortemente provato da una forte crisi economica e occupazionale, dalle gravi problematiche ambientali che lo investono da anni, merita soprattutto in questo momento la massima attenzione. Così dicono i tre deputati, tra cui la Ermellino. Ma, cara Ermellino da Crispiano, ma scusa, tu non sei quella stessa persona che disse che non possiamo far partire e arrivare i voli civili a grottaglie perché se no metteremmo in crisi l'economia di Brindisi e di Bari. Questo un annetto e mezzo fa dicesti questo, cara Ermellino. E io conservo tutto. Per chi avesse la memoria un po' corta o non avesse ascoltato questa tua straordinaria performance, sentite quello che disse qualche tempo fa l'Ermellino. Il turismo si fa con i voli civili, non con l'aerospazio. Allora, guardi, Lecce non ha un aeroporto, eppure ha un turismo molto più fiorente di quello di Taranto. Come se lo spiega? Ma noi abbiamo l'aeroporto, perché non lo dobbiamo usare? Perché probabilmente il fatto di essere sostenibile non consente adesso a grottaglie di essere un aeroporto, fra l'altro non classificato, dovrebbe avere anche una parte classificata come civile, però ha bisogno di lavori importanti. Il discorso qual è? Attivando eventualmente grottaglie. Bari e Brindisi, che già sono due aeroporti che non hanno un bilancio fortemente positivo, andrebbero in crisi. Loro vanno in crisi. Sì, Bari e Brindisi vanno in crisi, e noi cosa ci dobbiamo preoccupare? Che Bari e Brindisi non vadano in crisi? E nella crisi continuiamo a rimanerci noi? No, assolutamente non è questo il discorso. Dobbiamo trovare una soluzione migliore per il territorio, perché se noi abbiamo Brindisi a 50 minuti e Bari a poco più di un'ora, basterebbe semplicemente creare una serie di trasporti veloci ogni mezz'ora. Sì, ma il problema che noi abbiamo all'aeroporto, tenerlo aperto, tenerlo chiuso, è un peccato di Dio. Nulla vieta che se un domani il turismo di Taranto esploda, magari si possa... Il turismo esplode anche con l'aeroporto, con l'aeroporto chiuso è più difficile farlo esplodere. Non è conseguenziale la cosa, è solo di Porta Lecce, che Lecce non ha aeroporto. Capito, ma noi ce l'abbiamo, se io ho una macchina non vado a Roma con l'assino, uso la macchina. Ora tu, cara Ermellino, ti interessi delle infrastrutture? Dopo che di fatto avevi affossato l'aeroporto di Grottaglie, l'Arlotta, per quanto riguarda i voli civili, praticamente tu, deputata tarantina, che cosa facevi? Il gioco dei baresi e dei brindisini? Cioè un Tarantino che dice io non posso danneggiare l'economia brindisina e barese. Vedete voi quanto se ne fregano i brindisini e i baresi dell'economia tarantina. Ma questa è Alessandra Ermellino, che ora, ripeto, parla di infrastrutture. E' la stessa Ermellino che parlava, ricordate, di chiusura dell'Ilva e poi di chiusura progressiva delle fonti inquinanti e poi di riconversione economica del territorio. Cara Ermellino, ma quando, lo ripeto, con tutto il Covid si è continuato a produrre nell'Ilva, tu dovevi fare i salti mortali, dovevi fare il casino, tu insieme agli altri deputati tarantini e invece siete stati lì zitti zitti a fare i signor sì di Conte. Questa è la realtà, cara Ermellino. E cara Ermellino, tu che parli di infrastrutture, non ho visto una tua azione decisa per quanto riguarda l'isolamento dei collegamenti ferroviari e non solo che riguardano l'area ionica con il resto d'Italia. Perché, diciamocelo chiaramente, a Roma ferma l'Italia, si ferma l'Italia per quanto riguarda i trasporti. Lì c'è l'alta velocità, qui c'è l'inferno, lì al nord, nei collegamenti con il nord c'è l'alta velocità. Qui c'è solamente l'inferno da Roma in giù. Ecco, vedi Ermellino, io torno a ripetere, non ce l'ho Conte, ma certe frassi, certe iniziative, credimi, mi irritano davvero, perché significa giocare sulla buona fede delle persone e tu che dovresti venire da una storia di persona semplice, invece ti sei purtroppo adeguata ed uniformata al politichese. Ma sta tranquilla, le stelle sono cadenti e cadranno forse prima della notte di San Lorenzo e tu sei una di quelle stelle cadenti del partito, del movimento di Grillo. Prima o poi finirà, perché per voi cinque stelle, per tutti, davvero avete avuto una fortuna nell'essere eletti pari a un gratta e vinci milionario. Beh, 15 mila Euro al mese rappresentano una bella cifra, chi se lo sarebbe mai aspettato? Ma non è questo il problema, almeno per 15 mila Euro al mese, caro Ermellino, non mi venire a dire, come hai detto, che l'aeroporto di Grottaglie per i voli civili deve essere, deve rimanere chiuso per non sfavorire Brindisi e Lecce. E ora, dopo tanto tempo, dopo tanti mesi di ritardo e di silenzio, ti sei risvegliata? Ma sì, miracolo della primavera. La primavera, evidentemente, vuole bene anche ad Alessandra Ermellino da Crispiano.